Buonasera a tutti, sono Garolini, collaboro con la Baschieri per quanto riguarda la balistica. Dobbiamo iniziare dicendo che la Baschieri Pellagri, delle aziende italiane di munizioni, è sicuramente una delle pioniere in questo settore. Ha iniziato negli anni 90 a fare delle ricerche per i materiali alternativi, quindi preparandosi per tempo ad un'eventuale escalation che poi è arrivata quanto vediamo ai giorni nostri. Abbiamo una grande esperienza, abbiamo messo a punto diversi componenti specifici per queste munizioni speciali. Ci siamo adeguati a quelle che sono state le normative che sono via via susseguite da parte della CIP che è l'organo di controllo per quanto riguarda le munizioni. Sono state sviluppate un sacco di borre ad esempio, sono state sviluppate delle tecniche di caricamento, delle polveri addirittura apposite. La Baschieri diciamo che si è specializzata in questa cosa che era iniziata ancora prima negli Stati Uniti e quindi siamo arrivati non impreparati a questo momento. Al momento abbiamo tutti i materiali disponibili per quanto riguarda l'alternativa al piombo già valutati e già provati. I quattro materiali più utilizzati, ve lo dico molto brevemente poi Marco passerà a descrivervi più minuziosamente. Sono il ferro che è anche quello più economico, quello che dà risultati buoni con un costo abbastanza sostenibile. Si passa immediatamente dopo al rame che è un materiale decisamente buono perché ha una densità un po' più alta e quindi ha una penetrazione un po' più alta, una conservazione di energia un po' migliore. È stato uno dei primi materiali dopo il ferro che noi abbiamo preso in considerazione. Il tungsteno che è lo stato dell'arte per quanto riguarda i materiali alternativi. Il tungsteno dà la possibilità di sviluppare delle cartucce balisticamente molto superiore al piombo. Il prezzo da pagare è proprio un prezzo, è quello della cartuccia che è decisamente più costosa, però abbiamo una estensione della portata veramente molto significativa, molto notevole. Le cartucce non hanno più una portata di 40-50 metri ma arrivano addirittura a 15-20 metri in più, senza starsi a puntualizzare su delle distanze ben precise. L'ultimo materiale che abbiamo iniziato a studiare già da un paio d'anni e che è quello che veramente fa delle promesse notevolissime per quanto riguarda un po' questo tipo di munizioni speciali è il bismuto. Il bismuto dopo una prima apparizione fugace ad opera delle aziende inglesi, la Kent Gamble e la LA in primo luogo, ha dato origine a qualche critica perché era un materiale ottimo, densità molto alta, 9,6 la più alta sotto il tunsteno dopo il piombo, ma aveva una fragilità molto alta quindi è stato accantonato perché i pallini praticamente all'impatto soprattutto su delle superfici dure come le remiganti degli anacidi quando sono chiule, l'ale chiule, quindi tutti i calami sono avvicinati l'uno all'altro, sono delle stecche keratiniche molto dure, i pallini si frammentavano. Poi dato che sono state fatte delle evoluzioni molto molto positive anche su questo materiale, è stato legato con dello stagno, è diventato molto più tenace, è diventato molto interessante ballisticamente, da Baschieri chiaramente ha preso in considerazione anche questo. Oggi abbiamo al nostro diciamo disponibile catalogo tutti i quattro materiali alternativi, siamo preparatissimi, abbiamo tutte le borre che servivano, abbiamo sviluppato una borra con materiale 100% biodegradabile, quindi una borra in plastica che non lascia residui sul terreno dopo un certo tempo, che possono essere un anno o due, man mano che la temperatura, l'umidità e i microrganismi lo aggrediscono questo materiale che noi abbiamo definito green core, si diciamo si disattiva automaticamente riducendosi in polvere e in frammenti che non sono più un corpo di plastica. Abbiamo fatto molta strada in questi anni, siamo molto fieri, molto contenti di questo, siamo a conoscenza di tutte quelle che sono le nebulosità della normativa CIP che è quella che sovrintende a questa materia in un modo molto preciso e molto fiscale e la seguiamo rigorosamente per fare delle cartucce che c'erano in linea con tutte quelle che sono le prescrizioni che la CIP dà per questa cosa. Andiamo avanti, passo la parola a Marco, Marco è il capo del dipartimento tecnico-malistico della Baschieri Pellari da tantissimi anni, è quello che progetta le cartucce, che segue i materiali, segue lo sviluppo dei componenti, è una persona estremamente preparata e diciamo che è un pochino quello che ha messo più attività nello sviluppo di questa particolare branca, di queste munizioni molto particolari. Marco ti do la parola. Buonasera, buonasera a tutti, come ha detto poc'anzi Gianluca sono responsabile dell'ufficio tecnico della Baschieri. Avevo piacere di focalizzare un po' quelle che sono le caratteristiche principali dei materiali alternativi che ha sintetizzato Gianluca. Parliamo come prima cosa del peso del pallino, è abbastanza naturale dire che è importantissimo il peso. I pallini escono dalla canna, oggi con le cartucce moderne, specialmente i caricamenti forzati col ferro dai 400 ai 440 metri al secondo, quindi ci avviciniamo a 1500 km all'ora. E' chiaro che il pallino appena esce dalla canna del fucile e incontra questo ostacolo che è praticamente un muro per il pallino con la velocità, questo ostacolo che è mezzo aria che deve penetrare e deve attraversare. Quindi è chiaro che un pallino più pesante rispetto a un pallino più leggero ha la facoltà di penetrare mezzo aria e mantenere l'energia residua. Quindi abbiamo dei pesi che vanno, acqua è un grammo per centimetro cubo, quindi abbiamo 7,367,1 lo zinco e lo stagno, che sono materiali che sono stati analizzati un po' di anni fa ma oggi hanno poco utilizzo. Perché? Perché sono molto leggeri e costosissimi e si passa poi al pallino un pochino più pesante, anche diciamo un 10% più pesante che è il ferro, ha una densità di 7,80 e comincia ad avere insomma un pelo interessante, perché si passa ai materiali un pochino più pesanti, anzi decisamente più pesanti, come dice la gialluga, quindi il rame e il bisnuto fino alle leghe che sono principalmente oggi leghe tunsteno-ferro, vanno dal 12 di densità fino addirittura al 18 e più aumenta nella lega la percentuale di tunsteno chiaramente aumenta il peso. Un altro aspetto importante del peso qual è? Che più il pallino è pesante, più all'interno della carruccia occupa meno volume, il pallino più leggero occupa molto più volume. Questo è importante perché sapete sicuramente qua ci sono tanti i cassatori, che oggi le cartucce costruite per esempio con il piombo, nel classico l'osso 12,70 è quasi normale costruire delle cartucce 40-42 grammi, le classiche semi maghi, o il ferro che ha una densità decisamente più bassa, quindi si passa da 11-10 a 7,80, nelle cartucce 12-70 difficilmente si superano i 32 grammi, perché all'interno di quel volume i pallini più leggeri occupano tanto spazio. Addirittura lo zinco nello stesso volume è talmente leggero che difficilmente si arriva a 28 grammi. Un altro aspetto importantissimo, si parlava prima e quindi mi ricolleva anche un po' l'utilizzo dei fucili, è la durezza. La durezza ha un aspetto positivo e negativo. Positivo perché? Perché il pallino duro se deforma, quindi cosa fa? Il corpo sferico mantiene sul profilo sferico e meglio penetra l'aria. Troppo duro però cosa vuol dire? Che potrebbe dannizzare le canne durante il passaggio all'interno della canna. Quindi i pallini che partono da una densità di circa 7,80 ma anche una densità anche un pochino più bassa, una durezza in vickers che si attesta su 50 vickers, necessitano di essere protetti da delle borre per proteggere, per evitare che il pallino vada a toccare la canna e quindi danno usarla. Come dice la Zalù che noi siamo stati i primi, devo dire, in Europa a sviluppare queste borre che non sono di costruzione banale perché devono appunto resistere le solicitazioni particolari. Zalù vuole suggerire qualcosa? Il discorso del ferro per quanto riguarda la tutela dell'arma è importante sotto vari aspetti. In primo luogo quello pressorio perché le cartucce con i pallini alternativi al piombo tendono a sviluppare anche in funzione della borra speciale che viene utilizzata delle pressioni molto più alte. La ricerca avendo una densità più bassa, Marco diceva peso intende il peso specifico quindi è la densità chiave di questi pallini, è importante avere delle velocità molto alte. Il ferro con una densità di 7,8 contro una densità di 11,1 del piombo che non viene lanciato con almeno una velocità di 390-400 ma ancora meglio 420-430-440 ms perde moltissimo in letalità perché c'è una ritardazione molto forte. Voi dovete pensare che una sfera comunque un rapporto tra la superficie che è quella che viene frenata dal fluido aereo e la sua massa che è il suo volume ha un rapporto che è quadratico rispetto alla superficie e cubico rispetto alla sua massa. Di conseguenza man mano che il pallino aumenta abbiamo un vantaggio molto grosso perché aumentando al cubo il volume di questo pallino aumenta molto di più rispetto alla superficie che aumenta soltanto al quadrato. Questo ci spinge a un'altra cosa, ad utilizzare dei pallini più grossi due o tre numerazioni ma di questo ve ne parla Marco dopo. Vi dicevo la problematica è doppia, abbiamo delle cartucce con una pressione più alta, se col piombo abbiamo delle cartucce efficientissime, validissime, che fanno 700 bar, col ferro, col tungsteno difficilmente abbiamo delle cartucce validissime che facciano 700 bar, è più facile sconfinare nei 900, 850, 900, 950 bar. Non è un grosso problema. Le armi attuali, soprattutto quelle che diceva premi innocenti, se mancate con la prova steelproof, quindi col giglio fiorentino, hanno una tenuta molto alta. Sono utilizzabili tranquillamente fino ai 1050 bar, che è il limite superiore per le cartucce HP, ma non arrivando neanche ai 1050 bar, comunque con cartucce da 950 bar sono ultrasicure. Per cui la parte pressoria, che è il primo dei due problemi, lo risolviamo con le armi moderne, come già stato caldamente consigliato dapprima. Per quanto riguarda l'integrità delle canne, avendo dei pallini molto duri, abbiamo una durezza che è 4-5 volte quella del piombo. Il rame, che comunque è un materiale tenero, è tre volte più duro del piombo. Abbiamo bisogno di tutelare l'interno della canna, al contatto con questi pallini che potrebbero creare delle stricciature, delle lesioni sulla superficie rettificata, cromata e lappata della nostra canna. Abbiamo bisogno di una borra che contenga, intanto come condizzo Sinequanon, tutti i pallini, non devono esserci i pallini fuori dalla borra, in modo che tutti i pallini sono isolati dalla canna dai petali che compongono la parte diciamo periferica del contenitore. In secondo luogo, molto importante, che questi petali non vengono perforati dai pallini, perché quando abbiamo una tensione molto forte creata dalla pressione che spinge questa massa, i pallini tendono a fare un'espansione radiale e quindi se abbiamo un materiale tenero, un materiale troppo plastico, la sfera lo perfora e una piccola parte della sfera, sufficiente che sia la parte tangenziale, tocca la canna e abbiamo annullato tutti i nostri sforzi per non fare dei danni alla canna. Quindi, per preservare la superficie interna della canna da delle stricciature, da dei segni, da dei graffi, utilizziamo una borra in un materiale particolare, non è lo stesso materiale delle borre in plastica per il piombo, è un materiale speciale molto più tenace, che garantisce che questi pallini non riescono a perforare i petali. Attaccato a questo problema c'è quello immediatamente successivo, il passaggio in trozzatura. C'è un po' di nebulosità su questo concetto, molti pensano che sia un problema irrisolvibile, non è così. Tanto bisogna fare una discriminante precisissima. Il problema della massa dei pallini, che arriva da un diametro di 18,4-18,9 se sono canne sovralesate, a una stracciatura di un millimetro, che è quella di una canna o una stella, è chiaro che viene sottoposta a una pressione radiale fortissima. C'è un processo, si chiama tecnicamente di arroccamento, dei pallini che vengono compattati con un cilindro di diametro minore. Questo arroccamento è estremamente facile se i pallini sono piccoli e diventa estremamente difficile più i pallini diventano grossi. Infatti, prima parlavamo di strozzature 3, 2, 1, 4 stelle, 1 stella. Non è una cosa valida in assoluto, è una cosa valida soprattutto in occasione dell'uso di pallini di diametro molto grosso. Infatti la CIP, che è comunque un'agenzia estremamente preparata, dice che le strozzature 3 stelle diventano necessarie per la tutela solo quando si utilizzano pallini superiori ai 4 mm, quindi allo zero. Con i pallini del 7, che sono quelli che noi utilizziamo nelle cartucce tra steel, perché adesso saprete che per evitare in alcune zone l'inquinamento si utilizza anche nel tiro al piattello il pallino steel in ferro, noi abbiamo fatto delle prove all'interno della baschieri con fucili normalissimi, strozzati 8 e 11 decimi, con 1800 cartucce consecutive di steel del numero 7 e Marco è qui che lo conferma, non abbiamo rilevato una deformazione neanche di alcuni micron col cono di strozzature. Quindi, importantissimo utilizzare delle canne giliate e poco strozzate, se abbiamo poi la facoltà degli strozzatori, utilizzeremo degli strozzatori adeguati anche da quello che come diceva Innocenti suggerisce il costruttore. Ma se noi spariamo un pallino di 3 mm, che è un 4, state tranquilli che se anche lo spariamo in una canna a due stelle non succede assolutamente niente. Il problema veramente grosso c'è quando si va su delle sfere molto molto grosse di 4 mm, 4 mm e mezzo, lo zero, il due zeri, il BB americano che compare già molto spesso soprattutto nelle cartucce da oche per questa caccia con materiali alternativi. Ecco, questa è la problematica principale. Adesso ripasso la parola a Marco. Vorrei solo aggiungere che un altro elemento, non voglio entrare nel dettaglio della normativa CIP per questo tipo di aspetto perché è abbastanza contorta. Sono fondamentalmente quattro elementi che impone la CIP. La CIP guarda la sicurezza, della qualità non gliene frega niente. Quindi la sicurezza dell'arma e quindi dell'utilizzatore finale. Che sono? La velocità massima consentita la munizione, l'energia di movimento o momentum è praticamente un parametro che tiene conto, è un rapporto tra la velocità e la massa dei pallini che vengono lanciati. In sintesi la CIP cosa dice? Volete fare una cartuccia a grammatura pesante 32 è già una grammatura pesante col ferro? Potete farla, però dovete limitare la velocità. Volete fare una cartuccia veloce? Potete farla, ma abbassate il peso della cartuccia. Questo un po' è il concetto di questa energia di movimento che fa sì che fino a certe grammature, che possono essere in calico 12, i 28 grammi, si ottengono ancora velocità molto alte senza superare questo momentum, questo parametro. Sopra i 28 grammi il rapporto tra velocità e massa dei pallini costringe a omologare le cartucce a derivate prestazioni. Vuol dire che mentre quelle fine a 28 grammi possono essere sparate, i fucili non giugliati, quindi non c'è limitazione per l'utilizzo, la cartuccia omologata HB deve essere per forza vincolata alle armi col giuglio. Ci sono altri parametri, per esempio la CIP dice che la borra deve resistere e proteggere le canne da meno 20 gradi a più 50 gradi, sottoposta a 5 ore di termostrattazione. Dà un limite di durezza in vickers dei pallini che si utilizzano, non si può superare un pallino che supera la durezza di 110 vickers, senza per la sicurezza. Quindi è un contorta questa questa normativa, però chi costruisce le munizioni deve seguire queste regole e hanno una logica. Poi c'è un aspetto che non è da... ma adesso siamo focalizzati più che altro sul... Ma specifica bene il discorso che i 28 grammi possono essere sparati in tutte le armi perché molti non lo sanno. L'energia di movimento, vi faccio un esempio, l'energia di movimento massima che consente la CIP nel 1270 è circa 12 Ns, se voi dividete 12 per 24 o 28 grammi, viene fuori una velocità. Vi faccio un esempio, 12 diviso 28 viene fuori circa, adesso non ho la calcolatrice, 4,16 che è la velocità massima consentita a due metri e mezzo dalla canna e ha una velocità estremamente alta. Quindi una cartuccia a 28 grammi con velocità alte rientra nell'omologazione standard e può essere sparata nei lucidi normali. Non è necessario che i fucili siano puntonati PSF 2 stelle a 1.370, possono essere sparate anche nei fucili collaborati a 930, 24 grammi che sono ancora più leggera, ancora di più. Quando si va sopra queste grammi, uno può costruire la cartuccia a 32 grammi con 12 massimo di limite, ma è costretto, visto che la massa aumenta, a fare delle cartucce a 3,75 e i pallini di ferro che hanno bisogno di velocità 3,75 non sono efficaci, non hanno più le talità. Un altro aspetto, adesso abbiamo parlato del ferro, poc'anzi Gianluca ha parlato del bismuto, il bismuto è un materiale considerato non toxic in tutto il mondo, è un materiale che ha una densità di 9.7, 9.6, quindi si avvicina, può avere un peso importante, ha una durezza circa come il piombo, può essere sparato quindi con le bore di infelto, con le bore dispersanti, con le bore contenitore, in tutti i fucili perché non ha limitazione, perché è praticamente come il piombo. Ecco qui c'è un problema, cominciamo ad andare sui materiali che costano, ma non costano molto le parte. Un altro materiale è il rame, il rame all'està di 9, si ottengono già dei buoni risultati, però è già un materiale che ha una durezza tale che deve essere protetto con le bore steel e dopo una certa gramma dura, che sono i 28 grammi, rientra, è come se fosse una cartuccia caricata col ferro. Direi che è importante l'aspetto, adesso io ho preparato un grafico, era bello vederlo, però ve lo sintetizzo, cioè troppo oggi, troppo. I materiali che hanno, diciamo, il cui equilibrio tra performance e costo oggi, i materiali che sono stati valutati nel corso degli ultimi 30 anni, è il ferro, perché ha comunque un costo ragionevole il rapporto ai risultati che oggi con le cartucce moderne si riescono ad avere. Tutti i materiali che sono anche superiori alle performance del piume, parlo del rame, parlo del tusteno, non è problema neanche, sono materiali che costano 20 volt, il costo al chilo del piume, quindi purtroppo ci dobbiamo neanche rendere conto che costruire delle cartucce con il tusteno per andare a lodone, con delle cartucce che costano 2 euro e mezzo, è una cosa impensabile. Gli americani caricano dei cartucce con il tusteno e sparano i tacchini, ne sparano poche. Il 90 per cento del mercato il ferro è vietato, principalmente la cassa degli acquatici, California un po' dappertutto, però il 90 per cento del mercato è ferro. Poi c'è il tusteno, c'è il bismut, anche lì, è chiaro che sono materiali che cominciano a costare, quando uno spara molto, sono cartucce con il tusteno.